Contagi Covid in aumento tra le cause, la stagione autunnale, le temperature in discesa, la riapertura delle scuole e l'ulteriore riduzione delle misure di protezione con la mascherina che non è più obbligatoria neppure su mezzi pubblici. A fronte di un incremento di positivi anche in provincia di Como arriva una prima risposta per quanto riguarda i punti tampone di Cantù nel piazzale davanti all'ospedale e menaggio all'interno del parco dell'ospedale. La SS Tilariana, fatto sapere infatti che viene ampliato l'orario di apertura, saranno accessibili dalle 8 alle 11 da lunedì a venerdì. Per quanto riguarda le modalità di accesso è necessaria la prenotazione dell'appuntamento e l'autopresentazione è ammessa presentando la ricetta redatta dal proprio medico curante, pediatra o medico di continuità assistenziale o la disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio trasmessa da ATS in Subria. Il punto tamponi di via Napoleona a Como resta aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00, il sabato dalle 8 alle 12.00 e la domenica dalle 8 alle 10.00. Intanto, sempre a partire da oggi, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia vengono sospese le visite dei parenti per otto giorni causa Covid. La decisione si è resa necessaria in seguito all'aumento dei pazienti ricoverati per altre patologie e riscontrati positivi ai periodici controlli che vengono effettuati. Pur consapevoli del disagio, la SS Tilariana sottolinea che il provvedimento è un atto dovuto a tutela dei pazienti, del personale e dei visitatori stessi.